non lo sapeva io allora oggi parliamo di cavalli cavalli nell'agro veglientano tutte le notizie le informazioni quello che possiamo raccontare in circa circa 3000 anni di storia dei del cavallo insieme all'uomo ovviamente nell'agro veglientano si trascurerò insomma la presenza di cavalli nei giacimenti più antichi come quelli della polletrara o come insomma quelli del villaggio neolitico della marmotta insomma lì già ne ho parlato animali tantissimi il cavallo c'è sempre stato nel nostro territorio anche se andando a vedere alcune diciamo rappresentazioni del cavallo alcune delle prime rappresentazioni del cavallo in etruria troviamo dei cavalli un po più piccoli un po più piccoli ma ci arriviamo oggi il video è dedicato a marcello livigni che è un amico senese che è molto appassionato delle vicende chigiane da bravo senese e ma non solo perché è anche addentrato insomma nella famiglia chigi e insomma il video è dedicato a lui ma non solo a tutti coloro che amano questi grandi animali i cavalli e che si trovano nel territorio anche per questo motivo perché il nostro territorio veglientano esprime tantissimi tantissime possibilità di andare a cavallo maneggi spazi aperti insomma è è proprio una delle grandi diciamo attività ricreative e insomma anche emotive perché cavallo si usa anche per l'ippoterapia anche quindi terapeutiche del nostro del nostro territorio ma insomma partiamo dalle origini i cavalli sono presenti diciamo nel nostro territorio come dicevamo già da molto 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 tempo e un po grazie a alcuni rapporti che si intensificano nell'ottavo secolo avanti cristo non solo commerciali ma anche culturali per esempio arrivano portate dai greci le informazioni sul sull'epo somerico dove questi guerrieri combattevano sotto le mura di troia con il carro tirato da cavalli ci sono tantissime storie quando Achille batte Ettore lo lega al carro c'erano i cavalli a tirare il carro di Achille quindi insomma tutta una serie di informazioni che dalla Grecia arrivano in Etruria gli etruschi probabilmente già dall'età del bronzo conoscevano il cavallo conoscevano l'uso del carro forse addirittura uno degli elementi più ancestrali della cultura del centro Europa poi appunto giunta in Italia già acquisita da quelli che erano i proto etruschi in età villanoviana era quella del sole che durante il suo percorso fosse trainato su un carro tirato da volatili da uccelli ed è per questo motivo forse che troviamo gli uccelli come insomma ne abbiamo già parlato in un altro video rappresentati nelle sepolture diciamo della prima età orientalizzante però il carro quindi è un elemento di prestigio è un elemento che il principe ama insomma possedere avere ci va in guerra ci va in parata il principe dell'età forse ancora villanoviana ma sicuramente orientalizzante con il carro è proprio rappresentato e lo troviamo infatti il carro nelle sepolture più più antiche di questo periodo lo troviamo nella la tomba delle ruggenti la tomba di monte michele ma troviamo dei cavalli rappresentati sui vasi in alcune delle tombe di casale del fosso vicino all'olgiata o nella tomba delle anatre c'è quella grande olla bellissima con queste immagini di cavalli insomma il cavallo è presente nella cultura etrusca diciamo delle origini di questa fase in cui la cultura comincia a differenziarsi da quella dell'italia centrale ma in italia insomma sappiamo che per esempio c'erano i veneti che erano definiti dagli autori classici il popolo dei bei cavalli e insomma fa sorridere però neanche tanto fa riflettere il fatto che a verona ogni anno si tenga annualmente la fiera del cavallo quindi ancora c'è questo rapporto lì maggiore ma i cavalli che vennero portati importati in etruria erano probabilmente più grandi erano più importanti più imponenti cresceva in qualche maniera la razza e possiamo forse forse arrivare a ipotizzare a veglio degli allevamenti di cavalli se andiamo a leggere il cantaros di via d'avac poi tutte queste cose ve le cerco di mettervele in foto venite su su facebook mic e le damiani per vedere una serie di immagini che piove che posso che posso associare a questo racconto insomma c'è questo questa coppa che si tiene con due mani di ansata su cui sono riprodotte due carene di nave e entrambe hanno questa straordinaria opportunità di vedere all'interno come era fatta la nave l'imbarcazione siamo nel 640 620 avanti cristo e entrambe nella stiva portano dei cavalli quindi forse forse questi cavalli a cosa servivano è stato ipotizzato per andare a fare la guerra per andare a fare scorrerie chissà se in realtà avessero trovato qui un luogo interessante per essere allevati dei cavalli particolari dei quali purtroppo non c'è rimasta molta traccia e poi venissero in qualche modo venduti noi sappiamo che i cavalli dei veneti venivano portati addirittura per correre alle olimpiadi e quindi insomma possiamo immaginare che forse anche i cavalli degli enti potevano avere una certa qualità però insomma andiamo avanti questi cavalli appunto dal diciamo dall'essere l'attributo insieme al carro ovviamente del principe diventano un elemento che in etruri anche di questo ne ho già parlato per quanto riguarda gli aspetti ludici dei ludi prima funebri e poi proprio solo per divertimento delle corse con i carri io ho già parlato del dello storico insomma di quello che ci lascia la storia nel sesto secolo a Ratumenna il più grande auriga etrusco l'auriga è colui che guida il carro il più grande auriga etrusco tragicamente morto in un incidente proprio durante una corsa sotto le mura di Roma a Roma le corse dei carri erano state portate da Tarquinio da Tarquinio Prisco e però Tarquinio il Superbo quindi il suo prosuccessore addirittura decorò il Tempio di Giove con una quadriga di cavalli fatti realizzare con molta probabilità dallo stesso artista che realizzò l'Apollo di Veglio quindi anche i cavalli nell'arte cavalli nell'arte che nel sesto secolo si ritrovano anche a Piazza d'Armi con delle lastre diciamo decorate di terracotta con questi cavalieri sempre con i carri che insomma partono forse per una guerra per una battaglia accompagnati dal volo di uccelli oppure nella tomba campana dove il insomma c'è una caccia rappresentata sulle pareti della tomba e si vede appunto alcune di queste figure sono a cavallo quando Furio Camillo conquistò Veglio nel 396 a.C. poi dopo riportò a Roma il bottino e percorse probabilmente quella in trionfo quella che ancora oggi si chiama via trionfale quel percorso lì e lo fece guidando un carro ovviamente con tutto l'esercito presto non è che era da solo ma guidava un carro con quattro cavalli bianchi e questo fece dire al senato attenzione Furio Camillo perché stai un po' esagerando con i simboli con la simbologia perché quattro cavalli bianchi sono solamente a pannaggio di Giove e quindi in qualche maniera Furio Camillo aveva veramente sentendosi grande trionfatore aveva esagerato con i simboli ma andiamo avanti nel mondo romano che poi conquista l'agroveientano il cavaliere era in qualche maniera l'equites era quell'elemento del mondo sociale insomma del mondo romano che era un po' una categoria di mezzo non era proprio il senatore, non era l'aristocratico era un po' l'imprenditore, l'uomo nuovo erano quelli che i senatori non potevano fare commercio stava male e gli equites, i cavalieri erano proprio quella classe sociale che si occupava proprio di espandere anche dal punto di vista commerciale il dominio romano e troviamo anche dei riferimenti simpatici per esempio nel primo secolo qui proprio nella valle del Sorbo era venuto anche per questo dove c'è questa iscrizione funeraria che poi è finita al santuario del Sorbo che poi dal santuario del Sorbo è finita a Formello di Tito Postumio Difilo dove tra le due figure femminili che figurano scusate la ripetizione sull'iscrizione funeraria c'è un personaggio femminile che si chiama di primo nome Equizia è figlia di un nobile forse di basso rango figlia di Quinto Equizia Rufilla e Equizia nel suo nome ha appunto questo riferimento al cavallo quindi ancora riferimenti diciamo quasi dare il nome a un figlio quasi per dargli un tono di nobiltà ancestrale ma insomma sempre nel primo secolo abbiamo una delle storie forse più divertenti del mondo romano quando Caligola portò il suo cavallo in senato diciamo in qualche maniera criticando i senatori e dicendo loro che anche il suo cavallo era più bravo di loro o quantomeno al pari loro nel fare il lavoro di prendere decisioni ma siamo al centro del mondo ovviamente beh ma non proprio perché il cavallo di Caligola doveva correre nel circo di Caligola che poi diventa il circo di Nerone e questo circo, questo grande impianto che poteva ospitare fino a 20.000 persone si trovava dove oggi si trova praticamente il colonnato del Vaticano la Basilica di San Pietro e quindi oltre il Tevere e quindi diciamo per estensione in Agroveglientano beh insomma di cavalli poi nel Medioevo tra cavalli e cavalieri diciamo le immagini più iconiche che la storia, che i film, il cinema ci propongono insomma sono tantissime ma il mondo dell'equitazione cambia totalmente con l'invenzione prima e poi l'importazione dello strumento della staffa la staffa viene inventata più o meno si dice, si pensa ci sono delle prove archeologiche in India nel secondo secolo dopo Cristo e poi attraverso una serie di spostamenti verso le zone caucasiche e poi insomma nell'area della Pannonia dell'Ungheria giunge poi con i Longobardi in Italia nel VI secolo ecco il Longobardo porta nel mondo italico tutta una nuova concezione della vita a cavallo e questi popoli barbarici i franchi insomma saranno poi effettivamente vincenti dal punto di vista bellico grazie a questa cavalleria nuova che permetteva al cavaliere di hissarsi anche sulla sella e colpire con maggiore forza con delle armi direttamente dalla posizione sopraelevata il cavallo ha sempre aiutato l'uomo in guerra il carro non si usa praticamente più per andare in battaglia ma si va direttamente sul cavallo si ha una nuova stabilità sulla sella che prima non si aveva e nasce tutta una serie di riferimenti si dice cavallereschi cioè quindi il nobile che riusciva ad armare se stesso il proprio cavallo e una piccola schiera di armati partiva in guerra c'era tutta una selezione rispetto alla partecipazione bellica che era legata quasi unicamente al censo però ovviamente se eri nobile se crescevi in una condizione privilegiata anche economicamente ma anche culturalmente apprendevi maggiormente alcune norme di buoni costumi di educazione e quindi insomma il cavaliere diventa il punto di riferimento nuovo della nuova nobiltà ma arriviamo è molto simpatico questa cosa io che ho scavato e che ho visto anche gli scavi precedenti dei butti di formello ho cercato anche gli strumenti della cavalleria è divertente perché insomma non se ne sono trovati tanti però sono stati trovati un ferro per lo zoccolo di un somaro e un altro ferro dentro a un butto di Palazzo Chigi e invece un butto di Viale Regina Elena un ferro per lo zoccolo di un cavallo e insomma sono stati facilmente riconoscibili ovviamente perché sono due animali ben diversi però ecco c'è una sorta di pareggio in realtà i somari diciamo gli asini dovevano essere la maggiore cioè dovevano essere molto molto utilizzati i cavalli erano solamente per chi se li poteva permettere per la nobiltà come per esempio per Paolo Giordano Orsini Paolo Giordano Orsini Duca di Bracciano e quindi anche di Formello era un grandissimo amante dei cavalli e non solo un grande amante dei cavalli anche dei tornei addirittura partecipò a un torneo sappiamo a Piazza San Pietro si facevano tornei a giostre a Piazza San Pietro pensate e si indebitava per partecipare a questi tornei perché bisognava organizzarsi portare un sacco di cose mostrare armature armi i cavalli dovevano essere bardati finimenti insomma partecipare a un torneo portava prestigio ma portava anche grave dissesto economico e lui era veramente un grande amante di queste cose tanto che probabilmente parte della sua fortuna la dilapidò proprio in questo tipo di attività però poi grazie a questo prestigio si poteva permettere di conquistare ruoli importanti nell'esercito pontificio non solo quando addirittura morì lasciò in eredità a Vittoria a Corabboni il mantenimento i soldi per il mantenimento di 40 persone diciamo di servitù e per 15 cavalli quindi insomma avere i cavalli diventava importante ma veniamo alla ciccia al succo del discorso che volevo fare con Marcello un altro personaggio molto importante nel nostro territorio che è stato nel nostro territorio e che ha trasformato il nostro territorio è il cardinale Flavio Chigi noi non abbiamo grande notizie sulla sua passione per i cavalli prima del 1664 sicuramente da toscano e senese come dice Marcello era un grande appassionato però noi sappiamo che nel 64 va in Francia no alla corte del re Sole per dirimere una questione era cardinale nepote e gli era stata affidata questa missione dallo zio pontefice Alessandro VII a Versailles il cardinale Flavio deve aver trovato un fermento rispetto al mondo dell'equitazione equestre come funzionava a Versailles la situazione in quel momento si stava affermando un tipo di cura dei cavalli che si chiamava ipiatria che praticamente era una sorta di arte derivata dall'arte dei maniscalchi erano i maniscalchi quelli che curavano i cavalli facevano i ferri facevano le cose e curavano anche fisicamente il cavallo e questa ipiatria era una un'arte non proprio una scienza che in qualche modo si stava affermando e stava prendendo sempre più piede perché proprio a Versailles perché il re Sole invece era proprio un grande appassionato dei cavalli ci sono tantissimi ritratti di Luigi XIV a cavallo addirittura uno realizzato da Bernini proprio in questo periodo e chissà Bernini Chigi il re Sole insomma c'è qualcosa che torna ma soprattutto aveva una grande passione per questi cavalli e stava per realizzare le realizzerà qualche anno dopo non molti 3-4 anni dopo la piccola scuderia e la grande scuderia cioè due luoghi dentro alla reggia di Versailles dove i i nobili potevano andare e imparare l'equitazione perché l'equitazione si stava affermando sempre di più al di fuori della guerra proprio come rappresentazione diciamo del del nobile anche in ambiente non bellico civile si andava a cavallo e bisognava avere del portamento questo portamento diciamo l'idea di questo portamento nasce a Versailles proprio con Luigi XIV e mentre il cardinale Flavio va lì in visita da pochi mesi o in quel periodo lì usciva un nuovo trattato di medicina però di medicina veterinaria che si chiama di Jacques de Solleiselle io non so bene il francese è scritto Solleiselle qualcun altro mi aiuterà e proprio nel 64 1664 pubblica Le Parfait Maréchal il perfetto maniscalco bellissimo che è un trattato di veterinaria in cui viene applicata la teoria degli umori anche ai cavalli oltre che agli uomini quindi la medicina dell'epoca si trasferisce anche sul mondo equino e questo è molto affascinante perché in quell'anno il cardinale deve essere stato come posso dire molto colpito da questo fermento nei confronti del mondo dell'equitazione quando torna a Roma supera quella piccola malattia che aveva avuto e comincia a costruirsi Villa Versaglia a Formello la vuole come una piccola Versaglia anche se vuole un po' prendere in giro il re di Francia ma non può non costruirsi una grande stalla lo stallone con recinto per gli stalloni della razza delle cavalle quindi e questo lo sappiamo dai documenti viene proprio definito così e quindi questa grande stalla questo grande edificio questo grande complesso residenziale viene dotato anche di cavalli di razza quindi forse il cardinale Flavio comincia ad allevare cavalli di razza e chissà che non abbia importato dalla Francia alcuni di questi cavalli e è una ricerca che dobbiamo fare Marcello mi dice facciamo la ricerca col DNA e dico dovremmo avere ancora un allevamento chigiano per capire se diciamo c'è una provenienza di quei cavalli francesi che poi non erano neanche francesi erano in parte andalusi in parte lusitani quelli preferiti da Luigi XIV ma insomma l'interesse poi per le stalle da parte dei chigi sarà anche un interesse civile non è un caso che viene realizzata la stalla diciamo la grande stalla che si trova di fronte a Formello di fronte al castello di Formello al palazzo di Formello e oggi via Nazariosauro la grande stalla col granaio sopra e la stessa cosa fecero diciamo nella valle di Baccano nel 1666 e 1667 realizzarono la grande stalla di fronte e col granaio sopra di fronte alla posta diciamo a quella che acquistarono per essere la posta perché nel frattempo si stava diffondendo anche il modo di viaggiare in carrozza sempre di più si andava in carrozza e sempre di più ovviamente le carrozze erano tirate da cavalli e quindi c'è una moltiplicazione di strutture come posso dire di accoglienza anche per i cavalli perché diventavano sempre più funzionali a questo nuovo modo di vivere dell'età moderna questo ci porta con un piccolo salto temporale all'ottocento e ai ai grandi topografi dell'ottocento allora c'è una scuola alla storta che si chiama Giuseppe è intitolata Giuseppe Tomassetti non molti sanno tutti gli abitanti della storta più o meno la conoscono per esserci andati loro per averci portato i loro figli eccetera eccetera ma non molti sanno chi fosse Giuseppe Tomassetti è stato uno dei grandi topografi della campagna romana nella seconda metà dell'ottocento e veramente lui ha percorso tutte le strade antiche le consolari romane rilevando tutte le emergenze archeologiche storiche che vedeva e poi facendo un lavoro pazzesco di ricerca negli archivi e cercando di ricostruire la storia della campagna romana proprio seguendo le vie consolari e al di là del grande personaggio che è una grande fonte di ispirazione lui suggeriva che la ricognizione archeologica fatta a cavallo era molto più efficace perché grazie a quel metro e mezzo due di altezza rispetto al al terreno era in grado di vedere molte molte più cose quindi insomma è affascinante anche questo aspetto che rientra anche negli albori della ricerca archeologica del territorio ma non solo a cavallo arriviamo praticamente fino alla seconda metà del secolo scorso quando tra gli anni 60 e 70 dove oggi ci sono i campi di allenamento della Lazio a Formello venne realizzato un grande ipodromo che sbancò una collina praticamente e rinvenne rinvenendo in qualche maniera disturbando parte di un santuario etrusco di Casale Piano Roseto così si chiama e e quindi torna ancora il rapporto col cavallo e l'archeologia forse un po' forzato non lo so però insomma questo ipodromo realizzato per questo allevatore si chiamava Baldi insomma questi cavalli da trotto bellissimi lo so che erano bellissimi perché io tutte le mattine scendendo da casa li vedevo le mamme coi puledri e li salutavo avevano i nomi gli avevo dato i nomi e quindi insomma ritorniamo e facciamo un giro completo e insomma arriviamo alla grande diffusione dei maneggi che si trovano appunto nel territorio non mi sono dimenticato ma li voglio citare alla fine tutta una serie di festività che nel nostro territorio prendono spunto dai cavalli il palio della stella a Sacrofano c'era la corsa sulla via di Monteaguzzo la corsa dei cavalli a Formello e poi c'è anche la corsa degli asini che chissà magari è un modo per replicare in chiave popolare una corsa di cavalli a Campagnano ma insomma il cavallo a veglio è proprio amico dell'uomo e partecipa in tutte le fasi della sua storia veientani sumus ciao ciao